Lei che tempistica prevede? Considerando anche il calendario regionale che prevede una chiusura per le festività pasquali, probabilmente con la riapertura della scuola dopo Pasqua queste operazioni potrebbero essere completate. Le operazioni di cui parla Fabiola Ortolano, segretaria provinciale della UIL Scuola Pescara, si riferiscono soprattutto alla riapertura in sicurezza delle scuole e al completamento della campagna vaccinale del personale scolastico che, seppur procedendo velocemente, non sarà comunque ultimata entro il 15 marzo, giorno previsto per il ritorno in classe di studenti e docenti. Questa e altre criticità sono state affrontate ieri al tavolo con la Regione Abruzzo dai sindacati che, firmando un documento congiunto, chiedono in maniera univoca a Marsilio di prorogare l'ordinanza per la didattica a distanza. È chiaro che l'intenzione da sempre, da quando si è aperta la pandemia, dei sindacati è quella di poter avere una scuola in presenza, perché la scuola in presenza è quella che è fatta non soltanto del rapporto tra docente e alunno, ma anche dell'ambiente sociale. Detto questo, è chiaro che la scuola deve ripartire in sicurezza. La campagna di vaccinazione finalmente è partita anche con un certo corpo, per quanto riguarda il personale docente. Abbiamo circa mille docenti vaccinati ogni giorno. Secondo l'ordinanza regionale, la scuola dovrebbe riaprire il 15 marzo. Abbiamo dei dubbi che quindi la campagna vaccinale possa essere conclusa completamente entro questa data. Le altre situazioni riguardano, per la nostra idea di sicurezza che ci deve essere sulle scuole aperte, la possibilità di ripristinare il monitoraggio di eventuali contagi e di tutta la rete di trasmissione che da cui si può partire. Così come è importante avere dei presidi sanitari in ogni istituzione scolastica. La dotazione inoltre di mascherine di un certo livello, un FFP2. Questo perché riaprire la scuola a frammenti, come purtroppo le cose ci hanno portato a fare fino ad oggi, crea una serie di disagi. Il disagio in un'azione didattica, il disagio in un'azione organizzativa del sistema. Pensate che alla scuola sono legate i trasporti, ma anche le famiglie, la gestione che le famiglie devono fare durante i periodi di sospensione delle attività didattiche dei propri figli. Ecco, questi sono gli elementi su cui, secondo noi, bisogna continuare ad agire in maniera celere e veloce, completare in tempi brevissimi la vaccinazione del personale docente, dotare le scuole di questi strumenti di sicurezza e di prevenzione affinché si possa rientrare, ma il rientro possa garantire la continuità.